Cosa scrivi che mi prendo un infarto e una trombosi? Come fai? Anfetamina anche tu? Eccolo! Grande, grande, ma sì! Non raccolta nessuno! Ascolta! Di la verità! Con il corpo umano, se mi sa bene che io sono un po' alla canna del gas. Eh no, perché ho provato a fare dei successi modificando quelli di E.B. Hyde. Ho provato con tipo... Oh! Io con te in discoteca io te! Free drink! Ma non ha funzionato, ho provato quella... Oh! Io con te sotto il vento! La pioggia e il vento! Key way! Ah certo! E quindi? Niente, non mi ha cagato nessuno! Ho speso tutto, l'ha prodotto il cecchetto, ma niente! Sì, ma tu dopo vent'anni tu torni così? Così! E sali sul palco con questa lettera orrenda della trombosi? Scusami! Vabbè, mi sembra che tu sia bene, adesso mi sembra di... E ho giusto a scherzare! Mi hai richiesto la mano! Sì, ma vent'anni fa mio! Vabbè, io sono meraviglioso, ho pensato tanto e dopo ho avuto un periodo di riflessione e... Ho capito, ma vabbè! Questi sono riflessi, capito? Amore mio, ma sono passati vent'anni! Cioè tu non puoi venire qua dopo vent'anni, mi hai lasciato sola! E allora, se sei sola rispondo io! Anjo! 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 No, devo dirti una cosa importante... Aspetta un attimo, perché purtroppo io adesso tu... Stai venendo qua, perché in realtà io ti ringrazio, hai fatto una... Hai cantato una bellissima canzone, la nostra canzone... Però io non posso sposarti perché io, Mirko, sono già finanziata. Oh, tesoro. Eh sì, scusa però io sono... E chi sarebbe lo spigrato? Ah certo, lo spigato. No, lei è contentissima tra parole. Non sarà mica mio fratello? Andrè, cioè, con i bambini, cioè, lui vai schifo. Ma era mica altro che Annette e il fratello? Che tu fratello? Ma secondo te? Ma va. Io sono molto bello, molto bello. Giuliano, colgato! Sì, certo, colgato. Lo dovevo castrare, lo sapevo. Cos'è? Ma secondo te Giuliano? No, aspetta, devo dire... Ma perché adesso ti devo dire questa cosa che io non volevo dirtela? Basta che non... No, l'innominabile no. Eh? L'innominabile no. Ma non è l'innominabile, però... No, guarda, come tutti, cioè, piuttosto... Marrabbi, però... Però, ascolta, vabbè, ora te lo dico. Te lo dico, però, promettimi che non fai una tragedia come... Tu ricordi che sei sempre stato un po' nervoso. Papà gamba di legno. Papà gamba di legno. No, non è... Ma era papà gamba lunga. No, no. E gamba di legno. E... Sempre! Io sono fidanzata con lui, con... Il dottor Stump. No, 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 con cosa? Con... Lo conosci tu? Lo conosci? È un tuo amico? Cosa, Tommy? Sì! No, 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 aspetta, aspetta. Non è vero, no, aspetta. Il go, né? Il go. Il passmaker? Ah, c'è il passmaker. C'è il passmaker. C'è pure il passmaker. Sono vini, c'è il passmaker. Ma come? Come sento? Come sento? Come sta strisciando? Aiutami, devo ritirarsi. No, vi prego. Amore, non mi pare. Oh, ecco, mi sento meglio. Aspetta, ti dico una cosa. No, c'è una ricaduta.